Grande Fratello 2018 Grande Fratello 2018, una concorrente a Il Telefono? La figlia di Bobby solo ha pronunciato una frase che ha insospettito i telespettatori. . Un consueto spazio dedicato al seguitissimo reality show Grande Fratello 2018 che, anche se ha debutato sulla rete Ammiraglia Mediaset nemmeno da una settimana, inizia a far discutere sul web, dato che, dopo il primo caso che riguarda la probabile squalifica di Danilo Aquino, per aver fatto alcune dichiarazioni omofobe e razziste sui social network prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, è saltata fuori un'altra cosa. Un'altra polemica, perché le parole di una delle inquiline hanno insospettito i telespettatori. . La rivelazione sorprendente di Veronica Satti. . Il tg satirico di Antonio Ricci, dopo il polverone mediatico scoppiato all'Isola dei Famosi 2018, si potrebbe occupare di un altro caso, perché nel programma televisivo condotto da Barbara D'Urso, con protagonisti personaggi famosi e sconosciuti, la concorrente Cancelletto Veronica Satti durante una conversazione con Angelo Sanzio, ha detto queste seguenti parole, dopo te lo faccio vedere al telefono. . . La frase, pronunciata in maniera chiara e forte dalla figlia di Bobby Solo, non è passata inosservata a tutti coloro che seguivano la diretta televisiva su Mediaset Extra, infatti nel giro di pochi minuti questa notizia è stata riportata in numerosi siti, in cui è stato inserito anche lo spezzone di audio. . Ecco quando andrà in onda la seconda puntata del reality show condotto da Barbara D'Urso. . Dopo la prima puntata di questa trasmissione andata in onda il 17 aprile 2018, l'azienda del Biscione ha effettuato un cambio di palinsesto, dato che il secondo appuntamento serale sarà trasmesso in anticipo, ovvero lunedì 23 aprile, purtroppo questo spostamento potrebbe causare dei problemi per quanto riguarda la gara degli ascolti, perché il reality dovrà vedersela con la famosa fiction di Rai 1 il commissario Montalbano, che ha sempre battuto il programma incentrato sulla sopravvivenza condotto da Alessia Marcuzzi. . . E' bene precisare che i dirigenti Mediaset hanno preso questa decisione, perché martedì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'attesissima semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma. . Ovviamente sarà possibile vedere la replica integrale della seconda puntata del cancelletto Grande Fratello 15 il giorno successivo sulla 5, a partire dalle ore 21,10. . Per continuare a sapere cosa accade nella casa più spiata dItalia, è opportuno seguire il sito Blasting News, sempre aggiornato. Cancelletto GF. .